Salve a tutti, io sono TheLongamer e bentornati su Resident Evil 4 Remake. Oggi affrontiamo il Regenerator, mostro umanoide che proprio non vuole morire, flaccido, veloce e arrabbiato con la vita. Purtroppo Leon riesce a salvare Ashley, quindi i miei traumi saranno ai massimi storici. Buona visione! Perfetto! Riprendiamo da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio. L'ultimo l'ho registrato tre giorni fa, porca caccia la miseriaccia, non lo riesco a finire più sto gioco, per quanto lo stia adorando. Allora, abbiamo raggiunto la fabbrica dove probabilmente hanno condotto tutti i test per creare la Splagas. E, indovinate un po', dobbiamo salvare Ashley. Ovviamente dobbiamo salvare Ashley. Il Presidente gli ha detto, se non salvi mia figlia Leon, non ti permetterò più di andare dal parrucchiere ogni giorno, al massimo una volta a settimana. Leon è partito a tutta birra, ha detto, no ragazzi, toglietemi tutto, ma non il mio parrucchiere. Allora, ero entrato in questa grotta prima di concludere la puntata. Ed era pieno zeppo di cattivoni. Non possiamo tipo sorprenderli alle spalle? C'è una porta giganterrima. Ma siamo all'esterno? Ah, sì, siamo all'esterno. Una cosa è certa, qualcuno aveva un sacco di soldi per creare un impianto del genere, oppure hanno riciclato una struttura precedentemente esistente. Un salve! Oh, porcaccia la miseriaccia! Quel tizio ha un lanciamissile! E ora per magia non ce la più! Salve signori, che fate di bello! Sentite, vediamo di eliminarli. Preventiva... Eeeh, cosa? Che punti col dittino, che maleducazione! Aioba, porca figlia, non riesco a prenderti in testa. Anche i bastardo unici hanno le balestre, boni figlioli! Moriteci quando avete un secondo, così cortesamente non driblate. Oh, ma porca la miseria! E dai, gente! Aspetta, un attimo, sono ancora le bombe a mano, non sono ben ricordato. Boink! Dimmi che lo ammazzo! È tanto bene di certo, non li ho fatto. C'è ancora? Vivo come? No, cattivone! Mi avete fatto sprecare una marea di munizioni nel scorso episodio! E che stracocchio! Davvero, gioco, non mi droppi abbastanza munizioni. Tra un po' devo farli fuori a ceffoni! Oddio, non mi direi che mi esce qualcosa dai container. Perché mi cacco sotto a profusione. Ashley! Dove sei di bello? Uh, pesetta! Non posso entrare da qui. Devo trovare un altro modo. Ma guarda un po' chi se lo sarebbe mai aspettato. Non capita mai! Aspetta, questi li posso aprire? Oh, ma buongiorno! Chi è che ha buttato via le munizio? Ti sento? Sento che fai sneakert e sei da queste parti? Piccola giostrina, dove sei? Aha! Mi sembrava di averti sentito. Ok, me ne mancano più della metà. Amen. E qui dentro abbiamo una corona elegante. No, la corona elegante. No, porca la miseria. Al momento ne ho due! Cosa cocchio me ne faccio? O le vendiamo, a prescindere, e chi si è evito si è visto, ci continuiamo ad incastonare un paio di gemme. Della serie, meglio che nulla, valgono 32.400 e vi sarò tutti felici e contenti. Devo vendere appena possibile la lince. Però che due maronzoli! Ritornando a noi, è abbastanza ovvio che dobbiamo fare il giro. Proviamo a passare da questa parte. Buon salve! E oddio, a livello grafico davvero hanno fatto uno. Ottimo lavoro. Sento cosa che fa Pippete. Ah, ma va che gentili! E se ve lo dimenticate voi esplodete male, geni! Leon, però anche tu, porta via gli esplosivi. Usali tatticamente, dinamite, tanto schifo non mi fa. Allora, sembra che non ci sia nessuno. Signori! Yuhuu! Buongiorno! Vediamo un po', una lacrima viola. Sento qualcos'altro che fa Bip nell'oscurità. Leon, porta chiusa? Ovviamente. Non si apre. Già, c'è una luce rossa, quindi dobbiamo attivarla probabilmente. Da qualche altra parte. Per un secondo mi aspettavo di trovarmi qualcuno all'improvviso dietro l'angolo. Sono anche ritornato indietro e ho recuperato un po' di risorse di cui non mi ero accorto lo scorso episodio, quindi ho qualche proiettile in più. Ah, buongiorno! Salve, scusi, mi degnerebbe della sua attenzione. Vieni, 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 ciccio, vieni, vieni a giocare con me! Eccolo lì, è sparito come per magia. Ehi! Oh, oh! Si è triggerato malissimo! Signore, signore, stia buono! Mantenga la calma e anche lei là dietro! A questi non riusciamo proprio da ripugni? 1.500 pesetas? E io ho trovato i combattenti ricchi, a quanto pare. Ora che noto bene, questa struttura è abbandonata da tempo. Ah, ma c'era la scala? Non mi ero neanche accordo che potevo evitare l'esplosivo. Certo, vi avranno resi più resistenti, ma di certo non vi hanno resi più furbi. Buon salve! C'è nessuno? Vediamo un po' se posso aprire gli armadietti. Prima o poi qualcuno mi uscirà da un armadietto, è abbastanza ovvio. Sta cagata la devono fare. Aha! Stazioncina di controllo, buongiornissimo. E questo è quello che stavo cercando. E olè! Perfetto, ora possiamo entrare. L'importante è che nel frattempo non sia arrivato il comitato di benvenuto. No, sembra tutto tranquillo. E buongiorno! Nessuno mai che mi accoglie a braccia aperte. Ai, abbiamo un punto di non ritorno lì. Che succede? Guardala lì, mezza imbriaca. Eh, si è pippata le droghe questa, è andata ai festini. Ma dimmi te resisti. Possiamo spararle, tipo, vediamo un po'. Un proiettile via, dai, avanti, risolviamo il problema così. Il presidente degli Stati Uniti non deve sapere cosa le è accaduto. Possiamo dire che sono stati i Granados qua, come cocchi si chiamano. Signori, vi sento che rugnate nell'oscurità, ma siete fuori dal mio campo visivo, abbastanza ovvio. Ok, cerchiamo di essere tattici. Ho equipaggiato una granata potente. E guardali lì. Oh, porca miseria! C'è anche il tizio molto, ma molto grosso. Salve, chi è il torello? Un maronne. No, no, non compro nulla. Porca miseria, lo potevo attaccare. L'importante è che non abbia altri colleghi. Cerchiamo di risparmiare le munizioni del fucile nei limiti del possibile. Ho paura di avvicinarmi a quel tizio. Aio! No, eccola, eccola, vai lì, vai lì, vai lì, vai lì, vai lì, vai lì, una bella carezzina. Non l'ha gradita, direi che non l'ha gradita. Molto più efficaci, come potete notare. Una lacrima viola, porretto. Non era abituata a tutta sta dolcezza. Se dovessi scommettere, questo è un punto di ritorno. Che si apre dall'altra parte. Olè! Sapete da cosa l'ho capito? In quell'armadietto laggiù ci può entrare Ashley. E quindi... Oh no, questa è la porta ad aprire, vero? Tuttavia, ci serve una chiave di sicurezza di livello 3, se dovessi dedurre? Sì, è una scheda. Ovviamente, ovviamente. Oh, ciao chiappette d'ora, come va? Tutto bene? Sì, e dopo dobbiamo passare da lì, quindi quella zona è completamente inagibile. E vabbè, come ho detto, troviamo una strada alternativa, sperando di non essere sbranato vivo da qualche mostro. Perché sicuramente si saranno inventati qualche porcata. Oh, ciao erbetta verde. Dicevo, si saranno sicuramente inventati qualche porcata, qualche mostro. Per farmi passare un brutto qua. Tuttura, non ne hai visto niente, non ne hai visto niente. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, hai visto qualcosa, come non detto? Era la speranza a parlare. No, resta giù che hai un brutto mal di testa. Ho detto che hai un brutto mal di testa. Porca la miseria. Boni. No, no. Signore, signore, porti pazienza. Scusi, devo prima coltelare il suo cugino. Ok, grazie di aver aspettato. Lei è un ometto molto comprensivo. È gentile. Questo calcio è omaggio. Ok, chi altro c'è? Oh, no. A te di solito sparo sul pipino? Sul pipino? Non fare complimenti? In faccia, a quanto pare, è molto resistente. Tenti trasformare. Ti ma non è che ti devi trascinare in questo modo? Mi fai sentire in colpa? C'è un altro pizzo là dietro. Buongiorno. Come va? Tutto bene? Stai passando una buona giornata. Perché non posso più colpirli questi? Cosa sta accadendo? Oh, il lato positivo è che sono tutti ricchi da far schifo. Munizioni, pistola. Grazie, perché ne sto sprecando uno sfaccello. So che dovrei utilizzare la balestra, ma è troppo una rottura di balle, quell'arma. Speravo che sarebbe stata più efficace ed efficiente, però vabbè. Ah, abbiamo l'inventario un po' pienotto. Allora, aspetta un secondo. Facciamo boinkete e boinkete. Ottimo. Abbiamo una... Due erbe gialle. Uila. Io ti si porta la vita quasi al massimo. Il problema non è che io gliela porto al massimo, è che i nemici fanno di tutto per portarla al minimo e cominciano ad aver rotto un po' le palle. Abbiamo recuperato. Munizioni, fucile. Quante ne abbiamo? Ok, ne abbiamo recuperate un po' lo scorso episodio, l'ho fatta fuori quasi tutte. Buongiorno. C'è qualcuno che non prova a uccidermi? Ho raggiunto le cucine. Uh, aspetta, aspetta, aspetta. Questa la posso aprire? In effetti sì. Altre munizioncine, pistola. Ottimo. Se c'è qualcosa che i videogiochi mi hanno insegnato è che proprio i luoghi tranquilli sono quelli che ti dovrebbero far salire i peggio dubbi esistenziali. Aspettateli in aspettato. Salve. Perché non c'è nessuno? Aspetta, aspetta, sicuramente c'erano altre munizie. Una granata a fermentazione. Yey. Oggi è una buona giornata. Topolini. Non mi hanno detto di uccidervi. Non mi hanno richiesto la disinfestazione. Quindi siamo a posto. Ah, c'era una valigetta. Non capivo perché ci fosse quel buchino. Di solito serve per farti individuare tesori nascosti che devi raggiungere in qualche modo. Svandato. Ma che cocchio. Ma sei scemo nel cervello. È morto? Perché? Perché eri in un forno? Ma che scherzo di M, santo cielo. Posso entrare anch'io? No, eh. Ah, signor mercante. Come andiamo? L'odore della battaglia ti si è appiccicato addosso, amico. Scusa, eh. Parli te che sei in parte a carne marcia. Io non giudico. Però potresti anche farti i cavolacci tuoi. Un uovo di gallina. Che bella cosa. Buon uomo. Mi permetta di venderle un bracciale con perle, tre lacrime viola e una lince dorata della serie Meglio Che Nulla per la modica cifra di 54.000. Guarda, guarda quante ricchezze abbiamo da vendere. Ad ogni modo, possiamo comprare per la modica cifra di 64.000 pesetas l'estensione della valigia. Ottimo. Ragazzi, per la centonovantesima volta il lanciarazzi è monouso. Vuol dire che una volta che l'ho utilizzato, lo devo ricomprare, presumo. Quindi ogni colpo mi costa 80.000 pesetas. Sì, probabilmente ci sciotto la maggior parte dei nemici. Però, non lo so. Vorrei comprare anche la TMP, ma è abbastanza ovvio che troverò prima o poi una mitagliatrice più potente. Quindi tanto vale risparmiare il nostro denaro. In attesa della serie, hai visto mai? Fammi comprare delle resource da convertire molto rapidamente. Ripariamo il coltello. Ripariamo il giubbotto tattico. E teniamo da parte, casomai, il denaro per un'eventuale arma più potente. Ah, vedo che i biglietti di modifica speciale cominciano a fioccare come non ci fossero domani. Guardi, mi dia una lacrima viola che le rivendo. Oh, 2.500 pesetas, tanto schifo non mi fanno. Peggiore dell'ipotesi, gli zaffiri li vendono a marina. E chi si è visto, si è visto. Guarda che bella valigiozza che non c'ho adesso. Fatemi caso, minecraftare munizioni per il fucile. E con queste... Granata assordente. Munizioni carabina decisamente. Ecco qua. Guarda, ho abbastanza spazio per mettere un bel po' di armi in caso di necessità. Pollo! Fammi un altro uovo! Cioè, vabbè, gallina, insomma, ci siamo capiti? Se la terrorizzo abbastanza, mi droppo un altro uovo. Probabilmente ne faranno uno ogni tot minuti. Sì, 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 non a rompere le palle, ciccio. Spavento. Beh, fino adesso non abbiamo incontrato troppe rogne pericoli. Ok, chiave di livello 2, di cui non dispongo. Oddio, questo vuol dire che ci saranno diverse chiavi che dobbiamo recuperare. All'interno del gioco, un punto di ritorno. Che brutta zona! Sembra un'area abbandonata. di qualche laboratorio dall'aspetto molto, ma molto inquietante. Che è stato? No! No, no, no! E aiutatemi a dire popo una cifra. No, non ne voglio sapere niente. Chiave di livello 1. Oh, che palle. Quello che cos'è... Aspetta, volevo dire, tienimi fuori il fucile, Leon. E ora mi posso tranquillamente domandare. Quello che cos'era... Scusate. Porco cane, lo dicevo io che c'era qualche altro schifo che avrei dovuto combattere. Non c'è corrente. E quindi questa porta non si apre. Non posso entrare là dentro. Leon, consulta la mappina ogni tanto. Stanza delle dissezioni. Congelatore. Eh, vado a prendermi un gelato. Che te devo dire? Qui possiamo entrare? Nemmeno. Oh, ma guarda! L'unica altra alternativa è il corridoio in cui c'era il mostro. Signor mostro? Buon salve! Dove è andato? Oh, ok. Ho capito dove mi trovo più o meno. Questa non la posso aprire perché non c'è corrente. Dove stai? Oddio. Oh, no. Oh, è un piccolo cieco. Ok, appena farò qualcosa, lui spunterà. È abbastanza ovvio. Prego di portare la sua scheda magnetica di livello 1 alla stanza delle dissezioni. Ok, perfetto. Poi dobbiamo sovrascrivere la scheda per ricevere l'accesso a livello 2 utilizzando il dispositivo situato nella stanza del congelatore. Perché? Perché non avevamo niente di meglio da fare che mettere un computer in un congelatore. ed infine il livello 3 nel laboratorio di incubazione. Ok, tutto molto chiaro. Ok. Provo a ridare corrente? Oh, no. Oh. Non mi sto cacando minimamente sotto. Ok, qua dentro non c'è nulla da recuperare. Signor mostro? Yuhuu. Facciamo che apro qualche scorciatoia. Sperando che resti? No. Ah, no, è il rumore della porta. Io non puoi avere una torcina messa direttamente sull'arma? Non vedo niente. Aspetta un attimo. Ma abbiamo... Abbiamo tolto la corrente. Oh, merda. Oh, stracocchio. Non posso avere la corrente in tutta la struttura nello stesso momento. In compenso ora questo computer è operativo. Mi consolo. Cosa vuoi dalla mia vita? Ah. Ok. In teoria l'ho risolto correttamente? Ah, no. Uno di due. Adesso ho visto. C'è un nodo anche in basso. A sinistra. Ok. Corrego immediatamente. Ora dovremmo averlo risolto correttamente. Nodo due di due collegati. Perfetto. Et voilà. Ok, perfetto. Ora posso entrare. Spam. Cos'è sta roba? Buongiorno. Ah. Non lo volevo sapere. Ribadisco che più di qualcuno ha chiaramente qualche problema. Vediamo se c'è qualcosa che possiamo recuperare. Cosa state lavorando, gente? Qualcosa con un sacco di denti. Che bello. Analisi del soggetto. Regenerator o Regenerator o Regenador, visto che siamo in spagnolo. I suoi tessuti si rigenerano a oltranza, a meno che i parassiti che risiedono nel suo organismo non vengano distrutti. Osservando il corpo con un mirino con biosensore, ho potuto confermare che i parassiti si comportano come organi vitali. Ah, come se fossero molteplici cuori, quindi li devi distruggere tutti. C'è solo un piccolo problema. Io non ho il suddetto mirino. Quindi, orco canaglia. Oh, ho capito cosa sta per accadere. Ho capito cosa sta per accadere. Non mi piace proprio per niente. Appena prendo quella scheda, si scatena l'infe. Porco cane. Ok, teniamo fuori una bomba a mano bella putente. Scheda magnetica di livello 1. Da quello che ho capito, possiamo modificarla in modo tale che apra anche le altre porte. Non è accaduto nulla. Strano. Ah, eccolo! Eccolo! Maronne quanto è brutto! Maronne quanto... Sei brutto, porca la miseria! Dove sono le parti che devo rimuovere? Wey, wey, wey! Cos'è? Cos'è? Eh, no, 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 non compro niente! Non compro nulla. Ok, vedo un parassita, vedo un parassita dentro. Tipo a livello petto. Che schifo! Che schifo! Stammi lontano, creatura immondis... Io scappo via. Io scappo via, non ne voglio superare assolutamente nulla. Fa troppo schifo! Oh mio Dio, ti sei rigenerato anche troppo rapidamente? No! Aspetta, 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 aspetta. L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Oink! Parla di più, parla di più. No, ecco, prendelo! Ok! Ce n'è più di uno, vero? Oddio, oddio, lo vedo un po' instabile. Ok, vediamo un po' di esporre le altre parti del corpo. Un altro! Dove il cocchio è? Che schifo! Eeeh, è di nuovo a terra! È di nuovo a terra! Forse se lo danneggio a sufficienza muore comunque. Non lo so nemmeno io. Mi prendi un'altra bomba a mano. A sto punto, casomai, riparto dal checkpoint. Chi sei visto, hai visto? Ah! Adesso sei morto! Pezzo di erba, adesso sei morto! Mi ha droppato un rubino. Che culo! Però mi ha richiesto uno... Fa! Do cagare in mano! Uno sfaccello di proiettili. Ehm, boom, boom. Salve, vediamo un po'. Sardiamo qua dentro. Un lingotto d'oro! E beh, certo, eh. Chi non tiene un lingotto d'oro in un laboratorio, si sa mai che ti serva un fermacarte. Ah, tutte le porte si aprono adesso. Senti, finché non mi spunta qualcosa pronto a sbranarmi la faccia, a me va tutto bene. Un berillo rosso della polvere da sparo. Il berillo me lo porto via volentieri, eh. Basta che non do toccare qualche berillo. Lon! Eh sì, Lon! È Leon la lacca! Sei contento, ciccio? Ok, da questa parte non c'è corrente ergo. Ho la vaga impressione che devo tornare qui. Rigirare la levetta. E ora l'area del freezer dovrebbe essere correttamente alimentational. Vediamo un po'. Direi di sì. Allora, datemi giusto un zegandino che creo a suo punto. No, non posso. Non posso creare un'altra granata potente. Guardate quanto richiede, peraltro. E che cocchio. E che sono anche pieno zeppo di munizioni per la mitagliatrice. È questo che mi fa girare gli zebedei. Ok, il freezer si trova da questa parte. E va da sé che non appena metterò la tesserina nel computer, ovviamente mi attaccherà di nuovo il tizio. Buon sa. Oh no. Oh, è in uno di questi. È in uno di questi e... Come faccio a sapere in quale si trova? Buongiorno. Forse dalle texture riesco a dedurlo? Non posso tipo sparargli preventivamente. Aspetta che do un'occhiata in giro. Si sa mai che ci siano risorse nascoste. Oh! Cosa ho trovato? Betta! Ha pensato di essermi tirato la zappo si piedi da solo. Posso entrare qui? Buongiorno. La porta è stranamente chiusa, probabilmente. Devo ridare corrente. Questa volta ci sono cinque nodi, ovviamente. E direi ben quattro parti da ruotare. Questo va per forza così, altrimenti la corrente non arriva sotto. Vediamo un po' se ruotando questi raggiungo misteriosamente la soluzione. Oh! Per buccio di culo? Assolutamente sì! Vai! Cinque su cinque. Di solito questi li risolvo cliccando a caso finché... Guarda! Ho raggiunto il risultato giù. Sto... Oh, buongiorno! Le cinque! No, guardi, sono le una e mezza, ma vabbè, dettagli. Vediamo un po' se c'è altro. Vedico fatto bene ad aspettare. Spero che sia una mitraglietta. Bella putente, putente. Mettiamola per adesso sullo slot 4. Di solito ci tengo le bombe a mano, ma vabbè, dettagli. Piccolina, ha un caricatore da 20. Questa la potenziamo appena torno dal mercante. Domanda da un milione di dollari. Io posso schippare lo scontro col Regenerator? Se corro abbastanza a lungo. C'è chi me lo fa fare di affrontarlo? Allora, vai. Oddio. Inserisci la tessera e corri. Inserisci la tessera e corri. Vai, 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 veloce, veloce, veloce. Sì, che bella cosa. Oh mio Dio, richiede tempo? Oh. Era dentro, lo sapevo che era dentro. Leon? Leon? C'è il signore? C'è il signore? Il perillo, il cugino. Secondo grado la prossima volta. Dove la porta? Eccola qua. Corri, 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 corri. Non voglio affrontarlo. Mi nascondo, continuo a evitare la battaglia. Ah, questa era la mia intenzione. Ma il tizio corre. Peraltro è tutto budinoso. Riuscire a fargli perdere le mie tracce? Corri, Leon, giro, giro, tondo. Se fa il giro rimango fregato un po' con la cifra. Dov'è? No, 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 no. Porca boiazza però quanto corre, come ho detto. Ok, il computer dovrebbe aver finito. Vediamo di fare un salto veloce. Dite che riesco a sordirlo? Forse con una granata sordente? Vediamo un po'. Sono proprio contento. Trattengo sentito l'emozione. Prendi la scheda, perfetto. Inventario, granata sordente. E qui, paggia. Vai, 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 vai. È arrivato, è arrivato, è arrivato. Aspetta. Scherzone. Spero che perda le mie tracce. Corri, Leon. Corri, non ne voglio sapere nulla. Come si esce da sto posto? Mi sono dimenticato come sono entrato in questo posto fin dall'inizio. Oh, non sono arrivato da qua di certo. Ah, stai arrivando anche tu. Pare di essere arrivato da questa parte. C'erano delle scale. Sì, sì. Corri. Ah, metti la chiave, metti la chiave. Lassi, 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 lassi. Dai, apri la porta. Ok, forse non passa attraverso la porta. Passa attraverso la porta, non si fa problemi. Porca la miseria. Forse non passa attraverso questa porta. Ok, ok, ha un'area limitata. Porco cane, c'è altra gente di là? Ok, la musica è cambiata, quindi... Credo di essere al sicuro, ma quella porta io non la riapro. Beh, ci siamo risparmiati uno sfaccello di munizioni. E... scherzone! Molto tranquilli, eh. Qui ti si pilano le frecce sulla schiena. Come non ci fossero problemi. Non ti trasformare, ti prego. Quegli è tipo esploso la testa. Boinkete. Perfetto, della polvere da sparo. Sai che c'è ancora qualcuno? Sento che rugnate qua sotto e la cosa è molto inquietante. Ma andò state? Eeeh! Tatti buono, porco cane! Aspetta, aspetta, aspetta che non abbia un altro cugino che mi arriva da quella po'. Guarda il sesso senso teloniano. È qualcosa di assurdo ogni tanto. Mi ha rimbalzato addosso. Come? Oh, di signore. Buongiorno. Buon salve. Ok. Ditelo che dovete rompere i maroni, allora. No. No. Ti sparo sul pipino come a te. Oh mio Dio. Il pipino era il suo punto debole? Chi l'avrebbe mai detto? Sai che avrei fatto bene a tornare dal mercante. Però, sì. C'era quel piccolo problema del... Del regenerador. O rigenerator, come cocchio si chiama. Pilticina gialla, sei tu? Oddio. Devo vedere di consumarle appena possibile. Oh! Finalmente polvero da sparo come non ci fosse un domani. Che poi non ho ancora capito come Leon riesca a craftarsi delle munizioni. Mentre è in giro. Allora, vediamo un po'. Po' anche te abbiamo trovato granate sordenti. Sempre utili. Qui abbiamo munizioni. Carabina. Uh! Sì, sì. Ricaricamela. Che è meglio. Uh! Abbiamo 30 proiettili per la carabina. Ah, è vero che li ho craftati prima. Mi ero dimenticato. E... Qua ci sarà una lacrima, ovviamente. E par... Munizioni carabina. Sempre meglio, signori. Allora, mi serve la carta di terzo livello. Mi sa che questo è il punto di ritorno che abbiamo visto prima. Non lo so nemmeno... No! Oh, no. Oh, non mi piace proprio per niente tutto ciò. Allora, evitiamo di svegliare i tizi, se possibile. Guardali. Guarda quanti. Ce ne sono quattro. Oddio. Cioè, sembrano congelati. Mio Dio. No! Ditemi che non li incontro mai più all'interno del gioco. Ve lo chiedo in ginocchio. Aspetta che ci sono risorse. Una pianticina rossa. Mi sembrava di risolvere munizioni. Vedi che non mi sbagliavo. Munizioni mitragliatrice. E vedo dei proiettili anche qua. Munizioni carabina. Quanti proiettili per la carabina? Ne ho 40. Allora, vediamo di passare dalla porticina. È abbastanza ovvio. E come al solito mi stanno per attaccare... Oh! È quello che credo che sia. Mirino con biosensore. Sì! E finalmente c'è abbastanza spazio. Gioco dice no. Quanto è grosso sto mirino? Ah, non mi ero accorto. La balestra è completamente scarica. E voilà! Perfetto. Così adesso i colpi non occupano spazio nell'inventario. Olè! Mirino con biosensore. Può essere usato per qualsiasi arma compatibile con i mirini. Ha tutte? Quindi... Aspetta un attimo. Quest'arma qui fa uno sfaccello di danni. È un'arma molto precisa. Se devo colpire i punti vitali... Direi che forse sarebbe meglio montarlo sulla Stingray. E olè! Quindi fammi vedere un po' come funziona il tutto. Oh! Riesco a vedere i suoi punti vitali. Però ha solo due livelli di zoom. Buona sapersi. Non siamo stati in grado di recuperare uno dei corpi e un attrezzo che aveva con sé. Ah! Un soggetto dell'esperimento è fuggito. Quindi... Mi serve un attrezzo? Per cosa? Per aprire questo? Ah! Una sorta di chiave inglese? Mi serve una chiave inglese. Sì. Grazie, capitano ovvio. L'avevo intuito pure io. Come faccio tuttavia... Uh! Granata la prendo io. A capire... Chi ha la chiave inglese? Oh mio Dio! Ah! Ok! Ho trovato la chiave inglese! Allora, ci sono tre punti. Quindi i parassiti non sono sempre... Oddio, sembrerebbero tutti nella stessa zona, la mia impressione. No! Variano! Ok! Vediamo un po' se riesco a colpirglieli prima che diventi una minaccia. Aspetta! Porca miseria. Troppo veloce. Boink! E... Boink! E poi? Muore all'istante? Oh! Così è tanto più semplice! E abbiamo la chiave inglese? Oh! Brutto modo di andarsene. Aspetta... Spavento! Fan club! Dicevo, se sparo agli altri... Dite che mi droppano forse qualche... Qualche rarità? Oh! Ora ragioniamo. Aspetta un secondo. Mi sono appena accorto che ci avevano droppato una di queste pietruzze. Ottimo! Facciamo così. Quanto vale? 24 e 2. Se invece gliela metto rossa... 25 e 2. E allora direi che possiamo fare così. Ok, probabilmente è una cavolata. Però la faccio comunque... Boink! Oh no! Aspetta! Aspetta! Ok! Esplodi male male! E... Un rubino! Continuo a spaventarmi per l'esplosione! Ok, il rubino non mi cambierà la vita. Però lo possiamo vendere per... Mi pare 3.000 pesetas che è tanto schifo! Non mi fanno! Olè! Poi voglio dire... Non ci saranno rigenerator per tutta la mappa adesso! Oh no! Aspetta! Ti muovi troppo! E... Olè! Oh! Un'alessandrite! L'ultimo! L'ultimo! Bastardo doveva avere l'alessandrite! Incastonala subito! Tirai sulla corona elegante portandone il valore a 39,6! No 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 no! Possiamo fare decisamente di meglio! Ok, Ciancio ha le bande! Chiave inglese scelgo te! Vai! Perfetto! E... Olè! Ottimo! Vediamo di creare la scheda di terzo livello! E vi sono tutti felici e contenti! Soprattutto vivi! Che non sarebbe male! Oh no! Ci ho pensato adesso! Lo sape! Weeey! Figlioli! Non venite a rompere i maroni allo ziotelone! Weeey! Ciao ciccio! Aspetta! Ti posso sparare in faccia? Ti rimbalzano in... Oh no! Non gli rimbalzano neanche i proiettili! Wow wow wow! Stanno tirando cose! Direi di sì! No 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 no! Una carezzina! Una carezzina! Oh porca miseria! Oh staspera! Aspetta! No! La dinamite! La dinamite! La dinamite! Fai esplodere la dinamite! E che cocchio! Avete noto le balle voi altri! Dove l'ha tirata? No! Ok la scheda è pronta nel frattempo! Aspetta un secondo! Oh! Ce l'ho fatta finalmente! Queste le prendo io! C'era un altro tizio che lanciava dinamite! E ora non la lanci più! Ma che cocchio! Tirare il bombe a mano come tutte le persone normali no eh! Dovevano ovviamente rompere i marroni! Ehi! Ehi! Attina calmata! Giovane! Oh! Vedete se è il tizio pure dietro! No! Non ti trasformare! Ok! Non dovrei sprecarne i colpi! Ma volevo testarla comunque! Ma è il tipo colpo? No no no! Non è il tipo colpo? Non ti faccio troppi danni! Aspetta! Poinkete! Ma direi! Meglio che nulla! Ah! Non sprechiamo un pregete di qui per adesso! Signore! Ha provato a darmi la 220! E poi ci sei morto come un pirla! Non droppate munizioni eh! Sia mai che a voi popo fanno schifo le munizze! Mamma mia! Perfetto! Abbiamo oltre 70.000 pesetas! E una scheda magnetica di livello 3! Leon sei contento? Dobbiamo andare a salvare Ashley! Fidati che sarai molto meno contento nel giro di qualche minuto! Dai! La potrai stringere di nuovo fra le tue braccia! E poi stringere le tue mani attorno al suo collo! Una cosa veramente meravigliosa! Una sensazione incredibile! Apriti! Sesamo! Ashley si trova da quest'altro lato! In teoria non ho lasciato indietro nessuna zona segreta o altro! Lo spero! Eh perfetto! Tesoro sono a casa! Ti ho portato le droghe quelle buone! Come stai? La devi smettere di fare le cose strane ai parti! Quanti antidoti hai ancora Leon? Secondo me con uno shampoo però migliore eh! Shampino, permanentina, una spruzzata di lacca proprio così! Magari un paio di extension! Se proprio proprio! Dai! Un paio di colpi di sole oggi voglio abbondare! Ah! Un po' meglio! C'è ancora le braccia da tossica ma per il resto... Andrà tutto bene! Eccolo lì! Bravo! Bravo Leon! Lo sai che quella è la frase che porta sfiga sul canale? Eh però te la sei attirata da solo! Leon! Non funziona così! L'andrà tutto bene verso il prossimo! Aia! Eh vuoi un Imodium? Eh quello è il tipico attacco di diarrea! Uuuuh! Ok stai calmino! Va tutto bene! Riposati un attimo! E' stata una nottata anche troppo lunga! Non ti pagano abbastanza in lacca! Lo so! Lo so! Ok! Capitolo terminato! Questo vuol dire che io sto per incontrare di nuovo il mercante! Ergo posso potenziare la mitraglietta! Leon! C'è ancora... Fatti una ripisolata! Dormi un attimino ragazzo mio! Dai! Ah io non lo vedo messo bene! Spavento donna! Scusa il ritardo! L'importante è che lei non abbia un ritardo! Grazie! Hai portato la medicina in tempo! Che medicina! Dov'è Luis? E' un po' morto! Giusto un po' eh! Si è preoccupato per te! Fino alla fine! Sì è morto per te donna! Sappilo! La tua esistenza causa sofferenza e morte! Andiamo! Non c'è molto tempo! Facciamola finita! Famolo strano! Per Luis! Ma per Luis cosa? L'hai incontrato un minuto e mezzo tu! Te ne frega niente a Teddy Luis! Ada sei tu? Ciao amore! Ada mi ricevi? C'è un laboratorio dove rimuovere il parassita! Ho il sospetto che tu sappia dove si trovi! Le strutture più importanti si trovano nel santuario in cima alla montagna! E io cercherai lì! Ha! Ad all'enciclopedia! Che battuta di merda! Ma vabbè dettagli! Lieta di aiutare! Sei in debito! 26 secondi di attesa per rispondermi! Ma vabbè dettagli! Ashley! Ho capito che sei gelosina! Però porca la miseria donna! Dammi un po' di spazio! Capitolo 14! Dovrebbero essere 16 capitoli! Perché ci sono 16 statuine! Non mi pare ci sia nulla di interessante! Quelle che dobbiamo distruggere! Minerale di che? Cos'è sta roba? Credo che sia un oggetto da vendere! Obiettivo sali verso la cima! Beh non so quanto siamo scesi! Ci basterebbe ritornare alla barca! E a quel punto siamo praticamente a posto! Quello è un pesce! Zero zero pesce! Se non sapete chi è zero zero pesce! Noto ai più in questo caso come Persico Trotta! Ma vabbè dettagli! Andate immediatamente a guardare la serie di Hitman! Ok! Il lato positivo è che non ho lasciato indietro tesori per adesso! Quindi possiamo proseguire in tutta tranquillità! Ashley! Forza! Ti ricordi come funziona? Ma per favore! Sei anche troppo contenta? Ma ti sbircerai sotto la gonna ma... Sarò onesto con te se fossi l'ultima donna sulla faccia della terra! Causo l'estinzione piuttosto che ripopolare con te! Ah! Tutto qua! Secondo me Leon ce la potevi fare anche da solo eh! Ma vabbè dettagli! Una scassinatrice provetta! Mi scassino la faccia a calci in culo! Non chiedermi come io posso! Oh venditore! Allora dobbiamo trovare i medaglioni blu nell'area del deposito merci! Ciccio! Come andiamo? Tutto bene la famiglia? Un po' di novità in vendita! Vieni a dare un'occhiata! Grazie Vegeta è un piacere risentirti! Allora mi vendi la Killer 7? Cos'è un mega super revolver? Bella bestiolina in effetti! A sto punto vediamo davvero di potenziare! La nuovissima! Le 5! Ha una potenza di 0,80? Ma è uno schifo assurdo! Dai! Ma vabbè dai ci spendo un po' di dindini! Vediamo un po' se possiamo renderla un'arma un po' più decente! Anche se... Mio Dio! Vabbè aumentagli la capacità! E ho finito il denaro! Allora vendi! La chiave inglese! La scheda magnetica! Il lingotto! E la Madò! E che è? Perfetto! E l'orologio stravagante! 64.000! Tondi tondi! Cosa vuoi di più della vita? Potremmo dare una potenziata alla Stingray! Per quanto ormai la uso per fare i colpi alla testa! Quindi sarebbe stupido! Non ne aumento neanche la capacità! E... Senti! Se mi daranno proiettili per la mitragliatrice! E che guarda! Va su del 10%! Ho notato adesso che ha capacità perforante! Quindi i proiettili passano da un nemico all'altro! Se si trovano praticamente uno davanti all'altro! Meeh! Va bene dai! Ecco fatto! Aumento la capacità! Basta! Così non la devo ricaricare ogni 5 secondi! Perfetto! Ho recuperato tutti i tesori che avevo lasciato indietro! Vediamo un po'! Munizioni per il fucile! Stati zitto Vegeta! E che cocchio! E qua ovviamente peseta! Allora vediamo un po' dove siamo finiti! Di bello! Oh buongiorno! Ci sono i corvi! Dobbiamo andare là sopra! E come di grazia! Sembra una sorta di ascensore! Ciao corvettino! Vieni a giocare con lo zio Leon! Perfetto! Al massimo droppano un po' di peso! Ashley! Mi stai anche troppo attaccata al culo donna! Ah ok! Per un secondo! Ma l'ho preso! Era una scena un po' ambigua! Ah! Ho trovato il primo medaglione! Ottimo! Uno di cinque! A parte che vengono segnati sulla mappa! Di solito! Quindi di per sé l'impresa è anche abbastanza semplice! Ovviamente questo è un punto di ritorno! Ed è chiuso! Ah! Ma una gioia! Ma va! Davvero! Guardate dove cocchio! L'avevano nascosto! Aspetta un attimo! C'è qualcosa da lassù? Ah! Ma guarda un po'! Olè! Perfetto! È caduto a terra! Ti prego! Dimmi che sei una gemma rettangolare! Un'altra Alessandrite! Sì! Siamo onesti signori! Quando avrò finito sta corona varrà uno sfacelo! 58.000! Me ne serve un'altra assolutamente! E che cocchio! Ah che mille! Oh Dio! Ma l'avete spoilerata nei commenti sta parte! So che Ashley salirà a bordo! Ma proprio non riuscite a non spoilerare nei commenti! E Gesù! Giuseppe e Marilyn Manson! Ah ma l'ho ucciso il corvetto! Perfetto! Che succede? Cocchio ridi! Ma dattina calmata che stai sui maroni a tutti! Devo potenziare anche la rapidità di scoccaggio delle frecce di questa... Come ho fatto? Ma io! Come fai a dribblare le frecce? Aspetta che mi attacchino di lato all'improvviso! Ashley ti sento respirare! Smettila di respirare donna! Aspetta! Dove sono gli altri? Se riuscissi a sorprendergli alle spalle... No! Stavo per dire non sarebbe male se non fosse che ho esaurito lo spazio nell'inventario! Porca miseria! Potevo depositare la lacca di Leon! E adesso è un po' tardi per tornare indietro! E che stracocchio! Ah! Invia il deposito! Ma va! Ok 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 ok! Non devo per forza... Ma non la sapevo sta cosa! Pensavo di poterlo fare solo dalla macchina da scrivere! Peccato che a questi non li posso inviare al deposito! Però guarda quanto aumentiamo la barretta della vita! La portiamo al massimo gente! Mi sa che la portiamo quasi al massimo! Ma è lei che ridacchia nell'oscurità! Ma ti pare il caso? Fa che non è normale! E vabbè è uno scherzone amichevole! Oh porca miseria! Gli rimbazzo i proiettili addosso da dietro! Ashley! Davvero mi stai attaccata alla telecamera! E sta cosa mi innervosisce! Pop una cifra! Aspetta! Aspetta! Poinkete! Lei sta giù! No! No! Leon! 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 Ok! Secondo me mi sono caccato! Aspetta che il tizio aveva un sacco di cugini molto arrabbiati con la vita! Qui abbiamo un'altra pianticina verde! Non so! Non c'è più spazio nell'inventorio! Guarda! Occhio che poi scivoli! Hai scivolato veramente! Grazie signore! È stato un piacere incontrarla! Mi ha fatto anche ridere! Stai bene? Sì! Alla grande! Ma che è alla grande? Ti prendo a ceffonia 2-2 Leon santo cielo! Finché non ti scompiglio il capello! Oh! Mi ero completamente dimenticato di... Poi! Tre su cinque! Ashley! C'hai il fiatone per cosa donna? Per aver esserti fatta la manicure? Riesco a risparmiare un proiettile che non sarebbe male! Ashley! Non voglio vederti sotto il culo! Però... Non c'è finta di nulla! Non c'è finta di nulla! Sì! So che premendo control le do i comandi! Ma lasciatemi il piacere di odiarla passivamente! Ah! Avevo dimenticato qualcosa! Un bracciale d'oro! Qualcuno ha buttato un bracciale d'oro nella spazzatura! Poi ti stupisci che c'è tanta povertà! E questo dovrebbe essere l'ultimo! Ottimo! Quest completata con successo! Se ho visto bene... C'è la fiammetta blu del commerciante là sopra! Vediamo un po' se riusciamo a raggiungerlo in qualche modo! Attento a cosa! Sì! Lo sento che stanno urlando nell'oscurità! Salve signore! Mi dia un attimo che ricarico la balestra! Grazie! Lei è un ometto molto gentile! Adesso mi hai visto! Oh! Porca la miseria! Oh! Porca la miseria! Dimmi con quella bomba a mano che teniamo qui per le grandi giornate! Boni figliali! Cane! Qualcuno avrò fatto fuori! Non abbastanza gente! Wow! Boni! Boni! Ashley! Davvero! Levati dalle palle! Devi! Oh! Adesso ho trovato il comando! Ehi! Cala miseria! C'è colpa di Ashley! Come al solito non ti trasformare! Perché mi dovete trasformare! E che stra... Super megacocchio! Non vi si sopporta più! Avete rotto i maroni! Ci avete pochi amici su Facebook! E non vi vestite alla moda! Occhio! Perfetto! Vai Leon! Dagli una carezzina d'amore! Ok! Non so... Per quanto tu le finisci amore! Ma chi sono io per lamentarmi? Morto? Molto morto! Ok Ashley! Ora puoi venire! Aspetta cosa! Aspetta cosa! Io non aspetto nulla! Sei tu che aspetti me, donna! Che due balle! Se fossi salito lungo le scale li avrei potuti tipo attaccare da dietro! No! E come facevo io a saperlo? Aspetta che sicuramente c'eranno altre cose qui! Munizioni! Fucile! Ashley! Prendi la polvere da sparo! C'hai anche tu le manine donna! Facciamo che questo lo tiri tu! Aspetta! Aia questo aspetta! E basta! Ok! Lasciamola lì! Io intanto me la prendo con calma! Perfetto! Guarda! Do anche un'occhiata qua dentro! Porta chiusa! E un punto di ritorno! Ovviamente! Signore! Ha finito di sniffarsi i motori! Guarda che una brutta abitudine! Ver davvero eh! Io lo dico popomichevolmente! E voilà! Dove cocchio sono finito pure io! Sono stra super mega disperso! Ah perfetto! Prendo questa porta! Ora Ashley mi può raggiungere tranquillamente! Oh! Oh oh oh! T'ho visto? Ma porca la miseria! No! Ho detto di no! Fatti distr... Dove è Ashley? Aspetta! Aspetta! No! Razza di idiota! È riscesa! Lì ho un cocchio! Non potevi stare nella stanza! Allora sto messaggio è ingannevole a mio avviso! Se Ashley viene catturata dal nemico e viene portata via avrai perso! No! Avrai vinto! Te la sei tolta dai maroni! È una vittoria non da poco! E ringraziamo ovviamente il gioco che mi ha riportato indietro di oltre 5 minuti! Ho dovuto rifarmi anche la parte dei medaglioni blu! Grazie è proprio una cifra gioco! Ciao ragazzi! Come va? Tutto bene? È vostra questa? Fate complimenti eh! Perfetto! Intanto mi diverto a recuperare tutte le risorsine! Occhio che si scivola ciccio! Hanno appena dato la cera! No! Voi restate qui bastardoni! Ashley? Dove sei? Cazzo la miseriaccia! Oh! Ecco come mi hanno fregato prima! Arrivo! 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 Ma dove vai ciccio? Ma dove vai? Posto? No! Resta giù! Resta molto più giù! Ok! Morto! Non ti trasformare! Bravissimo! Ashley! Io te lo dico onestamente! Se ci fosse il record nei Guinness dei primati come persona più rapita al mondo lo vinci tu ma a man bassa! Salve signore! Che fa? Gioca con le asce! Faccia attenzione che è pericoloso eh! Io l'avevo avvertito! Il lion non lo puoi coltellare alle spalle! Eh! Perché ogni tanto il lion decide! No no! Io questi non li accoltello! Sono per il fair play e tutte cose! Orco! Ashley! Il signore si sta per trasformare! Aspetta un secondo! Ah! Guarda che sei tutta la splaga! Cioè non è che mi cambi più di tanto? Ma insomma ci siamo capiti! Oh mio Dio! Si tirate tutti tra truppe triggerati! Aspetta! No! Hai provato bastardone! Boni figlioli! Urf! Ah! C'era ragno dentro! Ashley! Levati! Porca miseria! Ho detto levati dalle balle! Devi eliminarlo rapidamente! Il ragno è morto? Il ragno è ancora troppo vivo per quello che mi riguarda! Signore! Un attimo sono subito da lei! Devo eliminare quella docile creatura là dietro! Oh! È scivolato! È scivolato bellissimo! No! No! Ho detto e basta! Mi state facendo sprecare davvero troppe munizze? C'è un'armata incredibile qua! No davvero gente? Vi ho chiesto 5 minuti di pace nella mia vita? Mio Dio! Allora dove siamo finiti di bello? Nelle fogne! Ashley vieni che ti fai il bagnetto! Ok Dio! Stai bassino! Un po' perché sicuramente ci saranno cose nascoste! Che puzza schifosa! Ce la fai? A lavarti? Sì! Un tempo mi avrebbe uccisa! Ah! Quanto vorrei che fosse un tempo! Mio Dio! Mi sarei liberato di un bel po' di problemi! Questo è poco ma sicuro! Uh! Ho trovato uno smera! Fatto! Finalmente! Smeraldino! Scelgo te! E para papà! 66.000! Ah! È un giorno felice per il telone! Per quanto sì! Esaurirò quella somma nel giro di 8,1 secondi! Ashley! Andiamo nello stesso momento! Ok! Forza! Ok! Andiamo nello stesso momento! Boink e te! Bisogna farlo un secondino prima! Perfetto! Dove buia? Siamo finiti le serrature a due persone adesso! Perché c'è Ashley! Dobbiamo farle sentire che è utile! Ma quando mai nella vita? Granata e frammentazione! E polvere da sparo! Sto corridoio ha un'aria inquietante! Va che schifo! Oh! Oh! Ashley! Ashley scappa! Ashley scappa! Aspetta! Aspetta! Buona! Sono presi due in un suo colpo! Aspetta un attimo! Un'arma anche troppo precisa! Infatti mi ha sbloccato la cisma in due parassiti con una fava! Ah ah ah! Oh porca miseria! Ok! Questa! Questa non me l'aspettavo! Maledetto bastardo! Ha un ulteriore parassita! Aspetta! Ah! Ah! Morici male! Dimmi che le ho fotte fuori parassita! Ma credo proprio di... No! Oh! È molto più resistente adesso! Aspetta un attimo! Oh che cocchio! Ora esplodi! È ancora vivo! Ah! Ok! Wow! Ok! Adorabile! Questo è nuovo! Mio Dio! È stato altissimamente inquietante! Aspetta un attimo che incastono il berillo! Uh! Ansietudine over 9000 signori! Non sei ferito però! No! Sto bene! Mi sono arrivati 826 aculei in faccia! Ho capito che ho il cappello a prova di proiettili ma non a prova di aculei! Donna non mi ascolti! Quando parlo è abbastanza ovvio! Dove buia siamo? Sembra una sorta di vecchio magazzino! Ok! Doviamo andare dall'altra parte per ridare corrente! Se no mi spunta un altro rigenerator! Lo apprezzerei ma pop una cifra! Oddio no! No 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 no! Devo chiedere aiuto a Ashley! Mi butto di sotto piuttosto! Però sì se non ridiamo corrente! Non usciamo vivi da sto posto! Che cocchio! Buono signori direi che per oggi mi sono anche traumatizzato abbastanza! Credo che ci restino un paio di puntate prima della fine! Non la fine di Ashley! Purtroppo mi sa che lei sopravviverà! Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate! Lasciate un bel mi piace! O vi faccio abbracciare dal rigenerator! E noi ci vedremo in un prossimo video! Ciao ciao!